Allora, io volevo dire che sto andando all'aeroporto ma volevo ringraziare moltissimo il mio agente perché oltre al runner che mi manderà la produzione in aeroporto al mio arrivo mi ha mandato anche uno qua, cioè io veramente tra l'altro, cioè per farmi sentire proprio a casa ma l'ha scelto molto molto simile a una persona di famiglia, una mia cara cugina che non c'è più, no no no, una mia cara cugina che però io non avrei mai disturbato per accompagnarmi all'aeroporto invece questo runner, questa signora, scusami scugito, come si chiama lei? Francesca Francesca, anche lo stesso nome Guardi ma perché, grazie Simone, grazie, agenzia, palinsesto, Maria, ma io sarei io però Bene, allora ci sentiamo dall'altra parte Attenzione perché oggi sono in una sala operatoria quindi non mi devo neanche stressare troppo perché però, cioè, lascio le cose dentro il paziente, non il calzo, non il calzo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti